Ciao, qui è Francesco Bellomo, il fondatore del programma Scommessa Intelligente, il programma rivoluzionario che permette a qualunque individuo abbia compiuto i 18 anni di potersi creare delle entrate ricorrenti attraverso la formula Scommessa Intelligente, imparando ad investire nelle scommesse, trasformando numeri in profitto. Ed in questo video voglio analizzare insieme in un modo intelligente la squadra del Tottenham, la squadra che limita in Premier League. Bene, prima di questo voglio velocemente presentarmi. Nel caso in cui non mi conosci, il mio nome è Francesco Bellomo e sono un riprogrammatore mentale, emotivo e comportamentale, uno di quelli che in realtà è nelle condizioni di prendere qualunque individuo e permettergli di raggiungere il successo, riprogrammandoli i propri stati mentali, dunque riprogrammandoli in realtà come pensa l'individuo, come in realtà si sente, dunque le sensazioni dell'individuo, per poi arrivare alle azioni e di conseguenza la materializzazione dei risultati. Ma per tua fortuna, molto probabilmente non sei qui per quello, ma questo processo lo attiverai e lo stiamo attivando anche in questo video, in questo momento, sono anche uno scommettitore e uno sports trader intelligente, con il quale trasforma semplici numeri in profitto, creandosi guadagni ricorrenti attraverso le scommesse. Dunque un mondo così assurdo, così macabro, alla fine lo metto a mia completa disposizione, non da adesso, ma da tanti anni, per migliorare completamente la mia vita, per guadagnare, per vivere la vita che desidero, per vivere la vita che voglio. E questa è la cosa più importante che lo insegno ormai da tantissimi anni e dopo anni e anni e anni di esperienza, ho condensato in una video serie di coaching straordinaria tutte queste nozioni in modo completamente gratuito per darti la possibilità di capire se noi due possiamo in realtà lavorare insieme, ma soprattutto per capire se alla fine tutto quello che stai facendo è corretto o meno. Questo te lo mostro attraverso la video serie gratuita di coaching Scommessa Intelligente. Ti consiglio vivamente, se non l'avessi fatto, di andare su Scommessa Intelligente.com e di iscriverti. Basta soltanto il tuo nome e la tua email per rivoluzionare completamente il tuo modo di scommettere e per capire in realtà cosa devi fare dalla A alla Z per crearti uno o più guadagni ricorrenti investendo in questo mondo. Bene, in questo video in realtà il mio fine è un altro, è quello di analizzare come ti dicevo prima insieme a te in modo intelligente la squadra del Tottenham. Prima di farlo voglio innanzitutto spiegarti cos'è questa cosa, perché magari ti ritrovi davanti a tutti questi numerini, questo file Excel dicendo, mamma mia, ma cos'è questa cosa? Bene, ti educo. Questo è un database. È un database magari un po' articolato, per noi è semplice, è un database che il mio team ed io utilizziamo, ma utilizzano anche i membri del programma rivoluzionario del movimento scommessa intelligente. Dunque in realtà ti educo innanzitutto alla parola database. Un database, per fartela breve, non è altro che un insieme di dati che vengono messi insieme in continuazione, in continuazione, in continuazione. Quando questo database viene sempre aggiornato è un database vivo. Quando il database non è più aggiornato è un database morto. E il problema è che quando muore questo database, dunque devi sempre aggiornarlo, aggiornarlo, aggiornarlo. Perché se lo aggiorni e ovviamente lo costruisci su delle basi affidabili, il database risponde a tante domande che tu gli puoi fare. Non risponde a livello di voce, ti risponde a livello di numeri. La cosa più importante è che il database ti mette nelle condizioni, se il tuo livello di consapevolezza è alto, di poterti creare quante più entrate desideri vuoi da questo fantastico mondo. Bene, questo è un database semplice, un database che lavora negli ultimi cinque anni, parte dalla stagione 2012-2013 e termina alla stagione che si è conclusa pochi mesi fa, la 16-17. Sì, perché quando ti sto registrando questo video in realtà la stagione del 2016-2017, battistica, si è chiusa, calcistica. Inizierà tra poche settimane, questo database continuerà ad essere aggiornato e ci darà la possibilità di crearci altre entrate. Dunque alla fine è uno step molto ma molto importante per fartela breve. La prima parte di un database è una parte tra virgolette informativa. Se vuoi puoi in realtà copiarlo, ti puoi mettere lì, puoi cercare in realtà di scrivere le stesse voci, poi alla fine non è importante copiarlo, non è importante il template, è importante poi riempirlo. Comunque ti invito anche in realtà a copiarlo, a fare una cosa del genere se ti possa aiutare. Io nel secondo video della video serie gratuita, riscommessa intelligente, te ne regalo proprio uno. Ovviamente non è riempito, ti dico in realtà la cosa che devi fare, ti regalo uno scheletro un po' diverso di questo, te lo regalo, vai, ho fatto il lavoro per te, non ti costa nulla, ci guadagni soltanto. Una cosa importante dunque, queste prime 5-6 colonne sono colonne informative, cioè sono quelle colonne che in realtà ci dicono la stagione, il campionato, la data, l'ora, la scuola che giochi in casa, la scuola che giochi in trasferta. Poi questa parte, la parte un po' più importante, questa è la parte un po' più importante, questa è la parte strategica e questa è la parte magica, questa è strategica, questa è magica perché ci permette di prevedere il futuro. Bene, una cosa fondamentale, in realtà adesso ti vado a mostrare tutto questo nei dettagli. Questa parte in realtà che cos'è? Sono le quote del mio bookmaker di riferimento. Se non sai cos'è un bookmaker di riferimento è il bookmaker che decidi di sposare, cioè sposare significa il bookmaker di fiducia dal quale cerchi di prendere le quote sempre per tutto il resto della tua vita, finché morte non vi separi, per arrivare alla fine a costruirti cosa? A costruirti un valore sapendo una volta che impari a creare le tue quote. Dunque la differenza della quota percentuale del bookmaker, la differenza della percentuale della mia quota, mi dà la possibilità di trovarmi un valore. Su questo valore poi ci lavoro in un modo formidabile al fine di rendere affidabile la mia intersezione o le mie intersezioni, dunque la mia strategia o strategie di guadagno. Poi qui abbiamo in realtà il risultato finale, abbiamo l'esito finale, abbiamo dei dati se la squadra che gioca in caso in trasferta è una neopromossa dove c'è N, no, dove c'è yes, sì. E poi qui abbiamo il simulatore del risultato, ovviamente qui è soltanto in back, in puntata, c'è anche in lei, però qui ti sto mostrando solo quell'impuntata. Cos'è questo? È un simulatore, in che senso Francesco? Bene, qui ci dice ROI, dunque il ritorno sull'investimento, sulle bettate fatte, sui point guadagnati, la responsabilità. La responsabilità sarebbe in realtà i point che noi abbiamo messo in gioco, in questo caso, per farla semplice, per renderla breve, per renderla davvero in realtà la cosa più idonea al lavoro, ho simulato bettante di un point su ogni esito che rappresenta in realtà ogni incontro. Dunque ci sono 7229 incontri in questo database, qualcosa di mostruoso, ovvero tutti simulati questi esiti a livello di bettate con, ovviamente quando perdi, perdi un point, quando vinci, vinci quello che devi vincere bettando a questa quota, ovviamente qui non vedi 0,87 perché c'è lo 0,87 meno il 5% delle commissioni che Betfair si piglia. Dunque alla fine questi sono risultati aggiornati nel profitto ovviamente con già la tassa di Betfair dedotta. Bene? Bene, una cosa che puoi notare, se avessi bettato su tutti gli eventi per assurdo, nel lungo termine, nei 5 anni, in realtà non avresti guadagnato, non saresti andati esattamente da nessuna parte. Questo è per farti capire quanto il bookmaker è scaltro nel darti determinate quote e nel fare il proprio mestiere. Uno, due, è fondamentale capire uno step importante, che la squadra che gioca in casa è sempre la squadra che vince di più. Vedi qui in realtà la parte meno dolorosa è questa, se avessimo bettato per assurdo non lo fare su tutti gli esiti in realtà, qui non avremmo portato ovviamente profitto, saremmo usciti distrutti, ma ovviamente qui saremmo usciti proprio, proprio, proprio morti come qui, qui distrutti. Bene, adesso analizziamo, grazie a questo database, perché una volta che te lo crei lo puoi filtrare, ci inserisci i filtri e qui in realtà il database ti risponde come vuole. Metti qui quanti uno ci sono stati in questi 7229 incontri? Bene, perfetto, ma dimmi una cosa, quante partite sotto la quota di due si sono giocate? In realtà che risultato hai avuto sulla quota di due? Bene, buttando solo sulle gare sotto il due avresti perso lo stesso. Sotto 1,50 che cosa avrei ottenuto? Avresti ottenuto 11,2 point di profit, ma avresti fatto 1160 abbettanti, dunque alla fine uno 0,9% di profitto, non è tantissimo, però alla fine non è quello che devi fare. Questo database è solo per in realtà interrogarlo e vedere quello che mi risponde. Ovviamente io ho automatizzato questo discorso, l'ha automatizzato un membro del mio team in realtà, perché alla fine nel senso dedico il mio tempo a fare altre cose, lui dedica il tempo a costruire questo database. Per il resto se sei intenzionato scriviti a scommesso intelligente perché ricevi e c'hai tantissime novità, ci sono tante cose che possiamo fare insieme. Bene, adesso quello che andiamo a svolgere, a fare in questo database, andiamo ad analizzare in un modo intelligente la squadra del Tottenham. Dunque scriviamo qui, eccoci qua, cioè fare il Tottenham, bene, il Tottenham negli ultimi anni, il database mi dice che se ipoteticamente avessi bettato su tutte le gare, assurdo, non si fa, il Tottenham mi avrebbe portato 10,13 point, un 10,7% di ROI, non male, però in realtà è un qualcosa di impensabile. Perché? Perché questo mi serve solo per delineare in realtà dove poter andare a prendere e a lavorare su questa squadra, ok? Dunque dove posso trovare il profitto? Ovviamente questo viene dall'esperienza, dalla conoscenza. In questo breve video voglio soltanto educarti al processo di poter analizzare una squadra e ovviamente analizzarla sotto un punto di vista importante, quello di dati e non più su opinioni, ok? Lavorare in singola e non più in multipla, la multipla lascerà la fiat, ok? Tu in realtà lavori in singola e lavori in modo intelligente, se vuoi fare di questo business una fonte di reddito perché la puoi tranquillamente creare, te lo mostro, te lo dimostro. Bene, adesso quello che faccio, ovviamente posso lavorare sulla quota, gli dico bene ma tutte le volte che il Tottenham giocava in casa con una quota inferiore a 1,50? Ah, perfetto, guadagnavamo di meno, dunque il Tottenham soffre un pochettino quando in realtà in casa gioca con una quota, cioè quando gioca in casa e da una quota sotto 1,50, perfetto. Allora che faccio? Questa è la mia strategia, vado sul 2 e dico perfetto, quando in casa il Tottenham ha una quota sotto 1,50 e fuori casa, la squadra che gioco fuori casa ha una quota maggiore o uguale al 5, dunque una squadra che comunque è importante, dunque ci siamo e vedo in realtà un altro concetto, inizio poi a inserire le chiavi, dunque inserisco la chiave del valore sulla x e gli dico ma dimmi una cosa, quando questo valore sulla x è compreso tra meno 15 e 10, che cosa succede? E qui mi dice in realtà, vedi Francesco sei sempre a queste condizioni, bene e quando il valore del 2 in realtà è superiore al 4%, dunque maggiore o uguale al 4%, che cosa succede? Sei quasi sempre lì Francesco, perfetto. E se qui cancello questo filtro, che cosa mi risulta? Mi risulta che in realtà hai sempre questo discorso di pochi point qui di profitto, ovviamente il ROI aumenta, aumenta il ROI, dunque c'è un ROI del 28,3%, è migliore in realtà puntando sempre sul Tottenham a queste condizioni, però in realtà il mio fine è quello di andarli contro, dunque gli dico bene, facciamo una cosa, se in realtà betto sul Tottenham tutte le volte che ha una quota maggiore o uguale a 1,50 e li vado contro e la squadra fuori casa ha una quota maggiore di uguale a 5, cosa succede? Ha quelle stesse condizioni che faccio profitto andandoli contro, dunque questo ti fa capire in realtà come puoi elaborare la tua strategia e come puoi guadagnare in questo caso andando contro il Tottenham negli anni sono 5 anni che tu lavori, ovviamente andandoli contro avresti fatto il 22,52 di point di profitto, l'83,4% di ROI, dunque se avessi investito nella totalità, nelle bettate di soldi che avresti investito metti 1000 euro avresti portato a casa 8.834 euro, se ne avessi investito di più ne avresti portato a casa ovviamente l'83,4% di ciò che avresti investito. Dunque alla fine cosa significa tutto questo? Che uno non devi andare a sua opinione, due non puoi andare e non puoi affidarti esattamente a nulla che non sia supportato in uno storico, affidabile in realtà. Tre, devi iniziare a scommettere in modo intelligente perché se non lo fai questi numeri e questi numeri che li trasformi in profitto te li sogni, ok? È davvero improbabilissimo che questo accada. Io sono anni che in realtà faccio questo, sono anni che formo tanta gente, sono anni che rivoluziono la vita della gente e fino ad oggi l'unica formula che ho tirato fuori dopo anni e anni di esperienza è stata questa, ok? Ed è la mia formula affidabile, ok? La formula affidabile per me, per le persone che fanno parte di scommesse intelligente, per il resto se ti iscrivi alla videoserie di scommesseintelligente.com, quella videoserie di coaching straordinaria, un piccolo seminario condensato in due ore di video, ti arrivano tre video, dopodiché ti arriverà anche qualche testimonianza di chi già ha fatto il percorso, dunque alla fine hai la possibilità anche di renderti conto quello che altre persone dicono, non solo io. Bene, uno step molto molto importante dunque che voglio rammentarti, non andare su opinione, non andare su sensazione, inizia a lavorare sui numeri e sotto un punto di vista abettistico qui cosa abbiamo visto? Abbiamo visto in realtà che il Tottenham ha queste condizioni, con questi filtri, utilizzando quelli che sono i miei valori che staturiscono fuori dal mio modello statistico, è un modello statistico alla fine che è creato su 19 partite, in qualche altro video ti spiego come crearti le tue quote e come creo le mie quote in questo database, in questo modo, dunque alla fine che dirti? Puoi lavorare in un modo importante, puoi crearti i tuoi guadagni, spero di averti dato la possibilità anche in questo video di educarti, di istruirti, formarti e innalzare ancora di più il tuo livello di consapevolezza. Se vuoi saperne di più vai su scommesseintelligente.com e decidi anche tu di far parte di questo movimento rivoluzionario di scommettitori intelligenti, coloro i quali vedono nelle scommesse un investimento, ok? Bene, che dirti? Ti abbraccio, mi auguro che ci possiamo prestissimo rivedere in qualche altro video, sbirce dappertutto perché ci sono, sto diventando viralissimo e ci vediamo presto, mi auguro in qualche seminario o in qualche mio programma. Se così non fosse, ti auguro tutta la massima felicità amico mio e ti auguro, se proprio devi scommettere, di farlo in modo intelligente. Io Francesco Belluomo e grazie ancora, ciao al prossimo video!